Buongiorno, sono Carlo Geimunat, sono un agente faunistico ambientale della città metropolitana di Torino e dal 2017 lavoro con il mio cane Mirtia per la ricerca di esche boccone avvelenati nell'ambito del progetto Life Wolf Alps. Per la formazione del cane antiveleno serve una parte teorica e una parte pratica. Il cane ha un naso finissimo e lui lo usa per leggere quello che sente sul territorio quando va in giro. La pratica serve per riuscire a canalizzare questa dote del cane, a portarla al nostro vantaggio, a ottenere i risultati che vogliamo, in questo caso la segnalazione di esche boccone avvelenati. Diciamo che forse la parte più difficile del lavoro è stata quella del controllo del cane, il controllo che poi serve a che non mangi il boccone, ma è quello che ti permette di avere un rapporto col cane per cui il cane è Mirtilla, Mirti, voglia sempre lavorare con te perché gli fa piacere quello e quindi anche quando ha altri stimoli, altre cose, se uno le chiede l'attenzione, lei è pronta a rispondere. La più grande soddisfazione che ha avuto nell'ambito di questa attività è riuscire a raggiungere la serenità per lavorare con Mirtilla in sicurezza, che lei non tocchi le esche o boccone avvelenati quando li cerca e anzi vederla lavorare che lo fa proprio con piacere perché per lei è un gioco, è una cosa che fa per divertirsi con me. Secondo me il successo dell'unità cinofile antiveleno, come in tutte le altre attività cinofile, passa attraverso il rapporto la complicità che si riesce a creare tra il binomio, cioè tra il conduttore e il cane, ovvero riuscire a comprendersi e a lavorare per il piacere di lavorare insieme.